Intorno alla metà del Cinquecento, a Firenze, il disegno diviene oggetto di riflessioni teoriche destinate a incidere assai a lungo nelle definizioni concettuali e nella nomenclatura tecnica che lo riguardano. Quelle riflessioni, in larga parte dovute ad artisti, accompagnano la loro prassi esecutiva, che tuttavia cade spesso in contraddizione rispetto agli enunciati teorici. Apparentemente, nelle botteghe degli artisti si continuava a seguire la raccomandazione sulla necessità del ritrarre denaturale che Cennino Cennini, più o meno agli esordi del Quattrocento, aveva affidato al suo libro dell'arte. In realtà, la generazione di Giorgio Vasari e Francesco Salviati, nonostante le dichiarazioni ufficiali, mostrò di trascurare il disegno dal vivo, almeno in una certa misura. Cennino, da parte sua, aveva prescritto un quotidiano esercizio dal naturale con un'espressione Ogni Dì non manchi disegnare qualche cosa, che riecheggiava la regola ferrea di Apelle sintetizzata nel famoso proverbio nulla dies sine linea, ma in realtà egli si distaccò totalmente dal resoconto di Plinio nella Naturalis Historia. A Firenze, infatti, il ritrarre dalla natura sembrava essersi sostituito all'esercizio prevalentemente segnico di Apelle le cui giornate non trascorrevano senza che egli tracciasse almeno una linea per esercitare l'arte. Ma proprio in quella città, in Firenze, la linea summe tenuitatis di Apelle, destinata a ottenere una schiacciante vittoria sulla linea di protogene, benché anch'essa piuttosto fine, sembra trovare una sua rivincita in sede teorica nella definizione di disegno inteso come lineamentum, elaborata soprattutto negli anni Sessanta del Cinquecento e principalmente da Alessandro Allori, Giorgio Vasari e condivisa tra gli altri da Francesco Bocchi. D'altra parte, la contraddizione tra teorie e prassi, di cui dicevo all'inizio, veniva da molto lontano, affondando le sue radici proprio nel corso del secolo XV, negli scritti in primis di Leon Battista Alberti, intendo il de pittura, ma anche ed edificatoria, e nell'operato degli artisti. Nel tentativo di inquadrare gli esordi di Leonardo disegnatore, vorrei dunque riflettere sul dualismo tra naturalismo e astrazione, partendo appunto da un disegno eseguito a penna, il famoso paesaggio datato 5 agosto 1473 degli Uffizi, inventario 8P recto, che ancora oggi costituisce la prima testimonianza grafica dell'artista in cui, a mio parere, è da ravvisare un manifesto programmatico della sua visione del disegno. Con la data vergata in alto a sinistra, il paesaggio dichiara la sua appartenenza a una nuova stagione di Leonardo, da poco iscritto alla Compagnia dei pittori di Firenze, la Compagnia di San Luca. La prima notizia, registrata sul libro Rosso, Debitori, Creditori e Ricordi, riguarda infatti un pagamento per il mese di giugno del 1472. L'agosto del 1473 si pone dunque agli inizi di una maturazione professionale che coincideva più o meno con l'avvento di una nuova età dell'oro per la fioritura delle arti a Firenze, preannunciata nel 1469 dalla successione di Lorenzo dei Medici al padre Piero di Cosimo. Leonardo, che pure continuò a usare il tratteggio parallelo ben oltre i primi anni 70, nel paesaggio preferì adottare un tracciato assai diversificato per conseguire una trascrizione insieme naturalistica e astratta del dato di natura. Nel disegnare le forme naturali, l'artista non si lasciò infatti sedurre dalle attrattive di una diligente perizia mimetica, viceversa, abbandonandosi al ritmo fluente della penna, evocò liberamente forme vedute dal vivo, rivisitandole a distanza e a memoria. Tale processo mnemonico si accompagnava al desiderio di richiamare le sensazioni provate a contatto con il paesaggio naturale, colto nell'attimo fugace di un momento della giornata. Altrove ho definito analogico il suo tracciato lineare, in quanto costruisce le immagini della natura ricercando analogie sul piano formale e suscitando particolari percezioni visive e sensoriali. Per esempio, la sommità degli alberi è tratteggiata con un movimento circolare del polso che simula l'aspetto delle fronde, suggerisce il loro muoversi nel vento e lascia intuire vibranti effetti luministici. Tralascio qui intenzionalmente di soffermarmi sul rapporto con il tracciato delle stampe, perché dovrei avere a disposizione almeno altri 30 minuti. Sul foglio di carta, quei tracciati lineari, molteplici, differenziati e irregolari generano dal caos indistinto del groviglio di linee l'immagine della natura. Osservandoli, viene in mente la critica mossa dal fiorentino agli artisti concentrati sulla diligenza esecutiva, nel passo dedicato ai componimenti inculti. Lo guardiamo. Ammassi di linee intrecciate, appunto, volti a catturare la dinamicità dell'attimo fuggente e a favorire la genesi della variante o soluzione alternativa che si prospetta durante il processo dell'invenzio. Però tu, componitore delle storie, non membrificare con terminati lineamenti le membrificazioni delle storie, che te ne interverrà, come a molti e vari pittori, intervenire su Ole, li quali vogliano che ogni minimo segno di carbone sia valido. E così via. Leggo solo l'ultima parte. Dunque, pittore, componi grossamente le membra delle tue figure, e attendi prima gli movimenti appropriati agli accidenti mentali degli animali componitori della storia, che alla bellezza e bontà delle loro membra. Perché tu hai a intendere che se tal componimento inculto ti riuscirà appropriato alla tua invenzione, tanto maggiormente satisfarà, essendo poi ornato della perfezione appropriata a tutta sua parte. I tratti a penna così particolari e variegati del paesaggio agli uffizi manifestano compiutamente il superamento del disegnamento dell'orlo o circoscrizione descritta da Leon Battista Alberti nel De Pictura. Sarà circonscrizione quella che descriva l'attorniare dell'orlo nella pittura, che si rifaceva a sua volta a Plinio, per il quale l'estremitas, ossia la linea di contorno, doveva svilupparsi su se stesse e finire in modo da promettere altre cose dietro di sé. Evidente che lo sfumato leonardesco sarà successivamente la risposta più efficace al superamento della circostrazione, ma all'altezza del 1473, Leonardo mostrerà, con il suo tratteggio variegato, di voler superare i limiti della linea di puro contorno e del tratteggio parallelo per esprimere il senso delle lontananze, la consistenza impalpabile dell'atmosfera, lo sconfinamento dei singoli dettagli naturalistici in un indistinto continuum spaziale. A quel tempo, egli sembrava ereditare soprattutto dai Pollaiolo il gusto per il paesaggio. Leonardo era attratto verso le botteghe dei Pollaiolo da un insieme di motivi disparati, dall'attitudine verso la sperimentazione delle tecniche pittoriche, sull'esempio anche dei pittori fiamminghi, all'interesse verso la rappresentazione del movimento, in particolare della figura in movimento, a quello relativo alla struttura muscolare e anatomica del corpo umano, sino alle ricerche incentrate sul rapporto tra figura e paesaggio e all'inclinazione verso l'illustrazione di brani paesistici in cui si declinavano conoscenze della pittura nordica. Non è un caso che nel disegno inventario 8P, esempio assai precoce, come si è detto, di paesaggio puro, si ritrovino convenzioni rappresentative fiamminghe, originalmente interpretate e parallela a quelle sviluppate negli stessi anni dai Pollaiolo. Anche se non vanno trascurati alcuni esempi risalenti proprio all'inizio del settimo decennio, cioè precedenti, dall'adorazione dei pastori alla Santissima Annunziata di Alessio Baldovinetti, alle tre tele perdute con le fatiche di Ercole per il Palazzo Medici in Via Larga di Antonio Pollaiolo, almeno a quanto si può oggi giudicare dalle due repliche conservate alla Galleria degli Uffizi. In aggiunta a tutto ciò, egli sembrò ereditare dai Pollaiolo anche la pratica dei disegni a penna. Infatti, negli anni della sua formazione, pare che venisse suggestionato dai disegni del Verrocchio realizzati con quel medium a partire dai tardi anni 70, cioè leggermente più tardi rispetto agli stimoli che gli derivarono dalle opere dei Pollaiolo eseguite nella stessa tecnica. Escludo qui, limitando il mio discorso alla penna, il forte ascendente esercitato, per esempio, dalle teste di donna di Andrea, ricordate da Vasari nel suo libro dei disegni, nonché dai suoi studi di panneggio. Mi riferisco invece ai disegni a penna del Verrocchio che contengono annotazioni rapide, prevalentemente a puro contorno e con pochi colpi di tratteggio, ma ciò nonostante assai volumetrici e dinamici, come gli studi di Putti distribuiti sia sul recto che sul verso di un foglio all'ouvre, ritenuto al più tardi degli anni 70. Essi costituirono certamente una fonte di ispirazione per alcuni dei progetti di Leonardo relativi a una Madonna con un gatto e un gatto. Nei primi anni 70 la tecnica del tratteggio incrociato doveva ancora conoscere uno sviluppo sistematico che l'avrebbe portata a imporre una logica di sviluppo tridimensionale volumetrico delle singole masse. Come noto, il tratteggio incrociato a penna nell'accezione centro-italiana raggiunse una prima maturità a Firenze dove a partire soprattutto dagli anni 80 venne utilizzato più estensivamente nella bottega di Domenico Ghirlandaio. Nella giovane donna che versa dell'acqua preparatoria per una figura della nascita della Vergine e nelle storie della Vergine di San Giovanni Battista della Cappella Tornavuodni in Santa Maria Novella eseguite tra il 1485 e il 90 circa, si concreditizza una nuova concezione della figura non desunta esattamente dall'antico ma all'antica e colta in movimento. In realtà qui l'artista preferisce fissare uno stato di equilibrio momentaneo all'interno di un processo dinamico suggerendo il moto tramite l'elegante svolazzo delle vesti gonfiate dal vento espediente che come in generale il muoversi delle cose inanimate contribuisce a vivacizzare l'istoria in osservanza alla teoria e alle prescrizioni di Alberti. Il tratteggio incrociato conferisce un saldo effetto tridimensionale e una solida plasticità davvero ragguardevoli guardando alla parte posteriore della figura si vede infine come il ghirlandaio riesca in questo caso a fornire una significativa interpretazione della circoscrizione di Alberti. Ma torniamo agli esordi dell'ottavo decennio e a Leonardo. A quell'epoca la penna doveva sembrargli una tecnica privilegiata per la sperimentazione grafica. Aveva fatto infatti compreso come attraverso il suo utilizzo chi l'aveva preceduto si era proposto di tradurre le forme della natura in un linguaggio segnico efficace ma inevitabilmente legato a formule convenzionali astratte come quelle che regolavano i processi della visione prospettica. Lo stesso Cennini Cennini sembrava aver intuito le potenzialità della penna quando nel capitolo tredicesimo del suo libro dell'arte intitolato Come si deve praticare il disegno con penna concluse le sue raccomandazioni con la seguente osservazione Sai che ti avverrà praticando il disegnare di penna? Che ti farai esperto, pratico e capace di molto disegno entro la testa tua. Ma nel paesaggio agli uffizi, intendo dire, la polarità sempre presente a Firenze tra naturalismo, il ritrare dal naturale, se raccomandato da Cennini e astrazione, la ricerca di un sistema grafico fondato sull'equiparazione tra disegno e linamentum si combinano armoniosamente e quasi miracolosamente In effetti, la straordinaria sintesi del segno grafico a penna messo a punto nel disegno degli uffizi contempera attitudini e scelte tra loro opposte ugualmente compresenti nei decenni precedenti a quel 1473 iscritto sul foglio Per comprendere meglio la rivoluzione leonardesca credo sia opportuno chiedersi preliminarmente cosa sia quel naturale raccomandato da Cennini, così come lo sarà poi raccomandato più tardi da Leonardo da cui l'artista deve attingere la sua ispirazione impegnandosi a ritrarlo e quali furono in effetti le caratteristiche dei disegni dal naturale o naturalistici con riferimento ad artisti attivi a Firenze negli anni Sessanta e nei primi anni Settanta del Quattrocento Incominciamo con l'osservare che in ogni opera convergono aspetti, elementi e caratteristiche diverse spesso non armonizzati e bilanciati tra loro in ugual misura con l'intento di dar luogo a un risultato finale che assicuri alla rappresentazione una piena naturalezza almeno secondo il nostro attuale criterio di valutazione della naturalezza Il primo aspetto, forse quello più vistoso, è legato alla scelta del soggetto Mi alvalgo per illustrarlo di due esempi di Maso Finiguerra fecondo disegnatore oltre che orafo e autore di Nielo Prince scomparso nel 1464 Il giovane uomo seduto a braccio a concerte e occhi chiusi degli uffizi e il giovane uomo seduto con la testa sostenuta da una mano all'ouvre Se il primo disegno pare fissare una tranche de vie magari colta all'interno della bottega dell'artista qualcosa di diverso si può verificare forse nel secondo dove nonostante a prima vista la figura sembra rientrare a buon diritto nella categoria del disegno dal vero in realtà nella sua postura andrebbe considerato una possibile persistenza di reminiscenze classiche Il giovane di Parigi potrebbe infatti manifestare la volontà dell'artista di ritrarre una messa in posa apparentemente naturale o forse anche del tutto naturale ricostruita tuttavia attraverso il filtro di un prototipo classico a sua volta destinato a rimanere sullo sfondo a causa di una decisa rielaborazione in chiave attualizzante In effetti non mi pare da escludere che la prima fonte per il giovane Maso sia una figura presente nel sarcofago con la storia di Oreste un tempo in San Marco a Roma e ora perduto destinato a incontrare una certa fortuna alla fine del Quattrocento in realtà si conosce solo attraverso alcuni artisti e alcuni disegni dall'antico o alcune rielaborazioni in chiave mitologico-allegorica di allegoresi mitologica Come si può vedere dalle immagini il disegno dal naturale si serve dell'espediente attualizzante dell'abito coevo all'artista ma non rinuncia talvolta a pose reiterate da repertori di modelli divenuti esse stesse canoni normativi non meno delle posture attinte dalle fonti antiche che a loro volta avevano fissato rielaborandole interpretandole attitudini colte dal vero D'altra parte le pose desunte dall'antico sono eternamente attuali perché connaturate alla vita dell'uomo e l'artista conosce l'affascinante allora come oggi ambivalenza dell'antico moderno e del moderno antico che ne stimola la creatività questa consapevolezza si manifesta già dalla metà del Quattrocento sia tra gli autori più colti e desiderosi di sfoggiare un ricercato repertorio formale antiquario sia tra quelli che più semplicemente si limitano ad ereditare modelli ricorrenti nella prassi artigianale elementi di ambiguità assai maggiori rispetto all'apparente naturalezza di alcuni soggetti si rintracciano in opere focalizzate sulle ricerche di effetti chiaroscurali desunti dall'osservazione naturalistica o dal vero riscontriamo per esempio una tale ambiguità in un cartonetto di Piero del Pollaiolo oggi al gabinetto disegni e stampe degli uffizi in parte perforato ed eseguito a carboncino pietra rossa naturale e gessetto bianco Piero lo eseguì per la testa della fede una delle virtù dipinte per il tribunale della mercanzia che furono allogate al pittore nel 1469 e terminate sicuramente entro il 23 marzo del 1472 con il cartonetto l'artista si prefigge una resa delicatamente naturalistica del volto indagato negli effetti chiaroscurali quel viso comunque propone decisamente una tipologia allegorica piuttosto che riferirsi a una persona in carne e ossa lo studio naturalistico della modulazione chiaroscurale non si esercita dunque in questo caso su una figura reale o qualora ci fosse mai stato un modello femminile all'origine tale indagine non è sufficiente a richiamarlo così come lo studio volumetrico del volto non contribuisce alla naturalezza alla sua naturalezza ma piuttosto alla sua idealizzazione un esempio in cui è ancora più evidente come la ricerca volumetrica apparentemente legata all'emulazione della natura si è invece finalizzata all'elaborazione di un'umanità ideale e data dalla testa femminile al British Museum di Andrea del Verrocchio qui tra l'altro l'artista attraverso la sapiente modulazione della pietra nera riesce contemporaneamente a rendere la volumetria della testa e a superare il rigido confine della linea di contorno così come aveva raccomandato Leon Battista Alberti il disegno mi induce inoltre a rammentare un altro suggerimento di Alberti quello cioè secondo cui se proprio si vuole ritrarre opere di altri artisti invece che cose vive si deve prendere a modello la scultura piuttosto che la pittura poiché dalla prima si può imparare a conoscere e ritrarre i lumi un'affermazione questa che ci riporta anche alla questione del primato delle arti un genere particolare tra i disegni che possiamo considerare finiti è dato dai chiaroscuri tra gli esempi del periodo che ci interessa uno particolarmente illuminante è costituito dalla Madonna con il bambino e due angeli di Filippo Lippi realizzata a punta metallica e lumeggiata di biacca su carta preparata in colore ocra l'interesse centrale sulla luce e le sue incidenze sembra rispondere alla raccomandazione albertiana ma in questo caso a conoscere e ritrarre i lumi è un pittore che attraverso un chiaroscuro esalta astrattamente lo studio naturalistico delle luci piuttosto che rappresentarlo in modo naturale nel dipinto con cui il disegno è in relazione conservato alla galleria degli uffizi si aggiunge un importante elemento figurativo alle spalle del gruppo si apre infatti un'ampia finestra nella quale si è riconosciuto una riflessione sulla finestra aperta albertiana dove io debba dipingere scrivo uno quadrangolo diretti angoli quanto grande io voglio e il quale reputo essere una finestra aperta per donde io miri quello che qui vi sarà dipinto dunque il disegno preparatorio per quanto finalizzato a indagare l'incidenza della luce si avvale di una tecnica per nulla legata a criteri di verosimiglianza naturalistica d'altra parte a proposito del dipinto è stata giustamente osservata un'implicita contraddizione nell'utilizzo della prospettiva per dare continuità al mondo dello spettatore a quello dell'artista avvicinando tra loro natura e arte infatti nella Madonna con il bambino i due angeli l'artista considera l'aspetto metaforico della finestra come espediente per la rappresentazione prospettica e allo stesso tempo mostra come la rappresentazione in pittura della prospettiva sia una finzione artistica un altro esempio questa volta costituito da un disegno di presentazione dovuto a un autore fiorentino sebbene il soggetto ci allontani un poco da Firenze mostra l'impiego nello sfondo di un colore astratto o quantomeno non riconducibile a una rappresentazione collocata in uno spazio in una dimensione temporale reali tale compitura cromatica viceversa si accompagna alla ricerca di attendibilità nella narrazione storica del soggetto nel foglio di Benozzo Gozzoli raffigurante Totila a sedia Perugia e il martirio di San Tercolano agli uffizi una veduta di Perugia con alcuni monumenti riconoscibili per esempio Porta Marzia si associa al racconto di un fatto storico l'assedio di Totila alla città nel VI secolo a sua volta correlato a un episodio della vita di un santo il martirio di San Tercolano vescovo di Perugia destinato poi a diventarne patrono la narrazione di questi fatti nel contesto di uno scenario urbano caratterizzato da monumenti cittadini riconoscibili è improntata a criteri di verosomiglianza rappresentativa ma la preparazione della carta in rosso violaceo contraddice ogni intento di naturalezza con ogni probabilità si tratta del disegno di presentazione lo dicevo prima che Gozzoli realizzò in relazione a una delle storie del ciclo di Affreschi con storie di San Ludovico e San Tercolano nella cappella del Palazzo dei Priori a Perugia commissionate a Benedetto Bonfigli nel 1454 invece questa storia risalirebbe negli anni successivamente immediatamente successivi al 1461 quando iniziò la seconda fase di esecuzione degli Affreschi nonostante lo stato di conservazione abbia notevolmente affiovolito il disegno a punta metallica e a penna alterando il rapporto originale con il colore dello sfondo e le lumeggiatura biacca l'opera mostra come nei disegni l'associazione contenuto forma, funzione spesso non si traducessi in una coerente omogenità di risultati almeno secondo i nostri parametri di giudizio riguardo l'aspetto naturalistico delle opere questi pochi esempi sono forse sufficienti a illustrare la natura complessa del disegno negli anni che precedono e accompagnano la formazione e la prima attività di Leonardo sottolineando altresì come il dualismo tra strazione e naturalismo fosse intimamente connesso alla pratica e alle tecniche del disegnare si può ben dire che a Firenze il distacco dalla natura la strazione di cui si è parlato e insieme la sua rappresentazione verosimiliante avvengano simultaneamente tramite la linea protagonista indiscussa del disegno anche se prima della teorizzazione del disegno lineamentum negli anni 60 del 500 vorrei concludere con qualche opera grafica di Antonio del Pollaiolo autore come si è visto assai apprezzato da Leonardo dove la linea fa da protagonista assumendo valori funzionali ma insieme riservandosi spazi di astrazione fondamentale per l'assetto compositivo dal momento che traccia i contorni dei corpi e fa interagire le diverse figure tra loro con lo spazio circostante come nel bulino con la battaglia dei dieci nudi la linea è altresì strumento essenziale nell'indagine anatomica ad esempio negli studi di un nudo maschile visto da triangolature diverse gli studi di braccia del Louvre un foglio eseguito a stilo penna inchiostro in parte leggermente diluito in acqua essa poi la linea riesce a evocare il flusso energetico che dalla figura in movimento si trasmette allo spazio circostante come nel veloce schizzo a penna con l'Ercole e l'Hydra al British Museum quanto all'aspetto astratto della linea possono servire da esempio la dame ed eva degli uffizi qui il segno che delinea i contorni dei corpi dei due progenitori fluido e scorrevole su una superficie sottilmente luministica è del tutto indifferente ai valori tridimensionali anzi se osserviamo un dettaglio nella figura di Adamo ossia la sovrapposizione della linea di contorno della gamba sinistra nel punto in cui si appoggia la destra che è posta dietro di essa possiamo cogliere qualcosa di più che un disinteresse nei confronti della resa tridimensionale della figura ci accorgiamo cioè di un processo di riduzione della figura a un campo spaziale circoscritto dalla linea perimetrale e svuotato di ogni intento di verissimiglianza naturalistica dunque l'acquisizione di un nuovo naturalismo cioè l'attenzione alla figura ai suoi movimenti alle relazioni con altre figure all'intreccio compositivo di una narrazione all'incidenza della luce al variare dell'ombra nel disegno fiorentino degli anni 60 e 70 del 400 si accompagnava anche a persistenti processi di astrazione del segno e del colore questa polarità era assai chiara all'epoca della formazione di Leonardo nel paesaggio degli uffizi lo riprendiamo ancora una volta il segno antidiligente analogico forma evolutiva dei componimenti inculti e la sua capacità di raccordare la visione ravvicinata e le lontananze sono il frutto di un prodigioso colpo d'ala su uno scenario segnato da quella ambiguità Leonardo getterà progressivamente le premesse di una nuova sintesi tra naturalismo e astrazione attraverso l'osservazione della natura ma manterrà a livello più alto l'autonomia del segno lineare sulle cose di natura rappresentate grazie alla sua visione sacrale del disegno il cui raggio di azione travalica il concetto dell'arse emula natura e concludo proprio con le sue parole dopo aver definito i disegni vediamo qui abbiamo tutta la dopo aver definito i disegni lineamenti che circondano le figure dei corpi finti l'artista infatti scrisse questo disegno è di tanta eccellenza che non solo ricerca le opere di natura ma infinite più che quelle che fa natura e per questo concluderemo non solamente esserscienza ma una deità essere con debito nome ricordata la qual deità ripete tutte le opere evidenti fatte dal sommi Dio grazie grazie